Salve, questo è il secondo video sulla teoria di complotto sul signoraggio bancario, in cosa consiste in pratica questo complotto. L'ipotesi dei signoregisti, cioè dei complottisti che ipotizzano questa truffa legalizzata, come la chiamano loro, è che la moneta all'atto di emissione sia una moneta debito, ovvero che la banca centrale, al costo di fabbricazione di, ad esempio, un euro, produce una banconota da 100 euro. Eccola qui. Questa banconota da 100 euro se la compra lo Stato, che per comprarla dà in garanzia un titolo di 100 euro, quindi nominale uguale, con gli interessi del 3%, in realtà le cose sono leggermente diverse, per cui semplifichiamo. Alla scadenza, la banca centrale restituisce questo pezzo di carta, prende 100 euro e non un euro, ovvero il costo di fabbricazione, e non solo. Beffa delle beffe, lo Stato deve pagare alla banca centrale anche gli interessi, diciamo il 3%. Ecco 3 euro. Dallo Stato vanno alla banca centrale. Terribile truffa, la banca centrale fabbrica monete da un euro come fosse un fazzario, consegna questi soldi allo Stato, che è un soggetto differente, e dopo un po' riceve 103 euro invece di essere compensato solo del costo di stampa. Qual è quindi la conseguenza della tesi sul signoraggio bancario da parte dei compiottisti è che la cosa più giusta sarebbe che lo Stato e la banca centrale fossero un'unica cosa, infatti la chiamano sovranità monetaria, ovvero che sarebbe opportuno che fosse lo Stato a battere moneta, quindi ad avere la possibilità di emettere questi 100 euro, quindi in questo modo sarebbe lo Stato stesso a fabbricarsi tutti i soldi che gli servono al prezzo modico di 1 euro ogni 100 euro, mettiamo. Quindi, se ha un debito di 99 euro, non fa altro che stampare i 100 euro, meno un euro di costo e ha ripianato il suo debito. Non solo propongono, ovviamente a questo punto infiniti vantaggi per chi aderisse a questa interessante iniziativa, ad esempio il reddito da cittadinanza. Ogni cittadino italiano potrebbe godere, che so, di un 10.000 euro, così, o dire, perché in questo punto si tornerebbe alla Vila separandosi dall'Europa e potrebbe quindi vivere tranquillamente senza bisogno neanche di lavorare tanto. Chi vuole lavorare lo fa per soddisfazione personale, altrimenti si vive stampando banconote. Questo ovviamente è impossibile in un sistema economico decente, ma andiamo con ordine. Partiamo innanzitutto a dimostrare che la premessa di tutto questo racconto è completamente sbagliata, perché la banca centrale non presta soldi allo Stato. Vediamo perché. Raccontiamo rapidamente che cosa succede quando, ad esempio, la banca X presta dei soldi a qualcuno. Quindi io ho un conto presso la banca X, deposito i miei 100 euro. Nel frattempo questi 100 euro vengono utilizzati, come sappiamo, dalla banca commerciale per investimenti. Può arrivare il piccolo commerciante a chiedere soldi in prestito, ma le grandi aziende e gli stati, quando chiedono soldi in prestito, quindi si assumono un debito, emettono dei titoli. Ad esempio, questo, lo Stato può emettere un titolo da 100 euro. Perché? Perché ha contratto un debito. E quando l'ha contratto? Prima. Ovvero, lo Stato aveva contratto un debito. E come ha fatto a contrarre un debito? Semplice. Ha speso più di quello che ha guadagnato. Quando si spende più di quello che si guadagna, si perdono dei soldi. E lo Stato, per legge, qui parliamo solo per legge e regolamenti, non può stampare i soldi che gli servono. Deve chiedergli al mercato, quindi emette un titolo. Ha un'asta, noi sappiamo ci sono le aste, le aste dei BOT, dei CCT, CTZ, eccetera, e diciamo che quest'asta va a finire al 3%, che è il nostro tasso di riferimento. Quindi la banca è disposta ad acquistare un titolo 100 al 3%, quindi da 100 euro allo Stato compra il titolo, alla scadenza si presenta dallo Stato, gli dà il titolo da 100, lo Stato gli dà indietro i suoi 100 euro più un interesse del 3% come era stato promesso. E qui non c'è niente di strano, anche perché questo ragionamento si può fare non solo con gli Stati, ma anche con i privati. Iniziamo da capo, abbiamo una banca X che ha i miei 100 euro, la banca X si vede intorno e dice, no guarda che oggi lo Stato non ha emesso nessun titolo, però l'ha emesso questo privato, questa grande multinazionale, questa azienda, eccetera, che ha emesso delle obbligazioni, ha emesso un titolo obbligazionale a 100 euro, quindi la banca gli dà i suoi 100 euro che chiede in prestito, quindi si sta indebitando perché ha promesso un interesse e prende in cambio il titolo, ha la scadenza delle obbligazioni, il privato che nel frattempo si spera che magari abbia soccostruito un altro pezzo di fabbrica per aumentare la produzione, che si è indebitato magari per crescere, gli restituisce i 100 euro più i 3 euro di interessi promessi nell'obbligazione. Questo è il funzionamento del prestito. A questo punto io posso andare in banca a ritirare i miei 100 euro la banca guadagnato, come è previsto i guadagni, ovvero investendo i miei soldi nel mercato in modo tale da coprire magari i debiti dello Stato oppure far crescere le aziende tramite il finanziamento. Vediamo finalmente come si creano 100 euro. Noi apriamo il nostro conto in banca, depositiamo i soldi che abbiamo guadagnato con il nostro lavoro, la banca inopinatamente decide di investire questi soldi, del resto lo può fare, quindi cosa fa? Li dà o allo Stato o al privato in cambio di un titolo, l'abbiamo visto prima, e quindi si ritrova il titolo e aspetta la scadenza. Mentre aspetta la scadenza noi abbiamo bisogno di quei 100 euro e diciamo, cano banca X, io sono un tuo correntista, ti ricordi quei 100 euro che ti ho dato? Me li dovresti ridare indietro, grazie, dovrei anche chiudere il conto. La banca però ha investito quei soldi, non ha la banconote. Come fa? La chiede all'unica entità che può creare banconote, la banca centrale. Può la banca centrale creare banconote? Sì. Ma c'è bisogno di creare banconote? Sì, perché? Perché abbiamo detto che l'altra volta il denaro non è altro che un mezzo tecnico per scambiare i beni e i servizi. Abbiamo detto che per esempio il privato cresce, aumentano i beni e i servizi. L'inflazione cresce, quindi se l'inflazione cresce c'è bisogno di più denaro per comprare le stesse cose. Di conseguenza c'è bisogno di più denaro. E come viene creato? Con questo meccanismo che è un meccanismo regolato da leggi e regolamenti, quindi è quello che succede. La banca X dà un titolo che fa la garanzia in cambio della banconota da 100 euro, che a questo punto la banca centrale ha creato, cioè ha immesso nel sistema. Dove si trovava questa banconota qui? in un immaginario grandissimo deposito tipo Paperone e Papironi, che è infinito, non importa. La banca centrale può immettere nel sistema quante banconote vuole. A questo punto la banca X mi può ridare i miei 100 euro. E siamo praticamente al caso precedente. Cioè la banca centrale è un titolo, lo Stato o il privato hanno i soldi che sono venuti fuori dalla richiesta di prestito, a questo punto lo Stato e il privato ha scadenza, si vedono arrivare i funzionari del Banco d'Italia, gli dà il titolo, danno i 100 euro più gli interessi che erano stati promessi. Il titolo è scaduto, quindi non serve più a nulla. Siamo praticamente nella stessa situazione di prima, soltanto che a guadagnarci è stata la banca centrale. Questi 3 euro sono il signoraggio bancario, né più né meno, quello che viene definito in economia, il signoraggio. E questi 100 euro fanno pari con i 100 euro che sono stati creati. Quando vengono creati e dati alla banca, vengono messi nel passivo, adesso che sono stati ricevuti vengono messi in attivo, essi elidono, tornano nel grande deposito infinito. E rimangono solo questi in gioco, il resto dei bilanci si fanno così. Questi 3 euro dove vanno a finire? Bene, vediamo. 1 euro va a finire in riserva, grossolanamente. 1 euro serve per gestire le strutture e il personale, 1 euro torna allo Stato sotto forma di imposte, tasse. A questo punto i signoragisti, i complottisti dicono, ma non sarebbe giusto che questi 3 euro rimanessero nello Stato? Beh, in verità non cambia assolutamente nulla, perché se questi 3 euro rimanessero nello Stato, lo Stato dovrebbe dare 1 euro per la riserva e 1 euro per mantenere le strutture, gli impiegati, i funzionari, eccetera. Quindi, in pratica, per lo Stato, avere l'incasso del signoraggio o lasciare la banca centrale e prendersi quello che avanza, non cambia assolutamente nulla. Anzi, potrebbe essere un grosso rischio, ed è per questo che esiste questa tecnica di signoraggio, perché lo Stato che ha sempre bisogno di soldi ed è sempre in passivo, nel momento in cui ha i soldi del signoraggio, si trova un po' in difficoltà, fa una resistenza invece di darli alla banca centrale questi 2 euro. Gli servirebbero altri che 3 euro, 300, 3.000, 30.000 euro gli servirebbero. Quindi, per evitare una situazione in cui la banca centrale vede scendere le riserve o compromessa la propria funzionalità perché lo Stato è troppo indebitato, si decide che la banca centrale emette moneta in cambio degli interessi sui titoli e che questa parte, appunto questi interessi sui titoli, vengono utilizzati per il non male funzionamento e il resto venga drenato verso lo Stato attraverso l'imposizione fiscale.